Musica Ok, pesca una carta Bene, ricordatela Falla vedere a lui Ok, mettila qui Ok, perfetto Ora guarda, andrò a tagliare il mazzo E a mischiarlo Ora La tua carta, la tua carta è rossa È rossa? No Quindi non è questa, giusto Ok Io basta che la prendo Basta che la metto qui Bene, ricordatela Falla vedere a lui Ok Mettila qui Ok, adesso mettila la mano vicina Ok Vado a tagliare il mazzo Ok, grazie E vado a mischiarlo In tre modi Uno All'americana Va bene? Il secondo modo Alla Carlona E il terzo modo È un miscuglio un po' strano Ovvero un miscuglio a caso Cioè prendo un po' di carte Le metto di faccia E un po' di carte di schiena Ok Quindi nel mazzo Crea un po' di confusione Diciamo Sì Ok Quindi Adesso ci sono Un po' di carte di schiena Un po' di carte di faccia Un po' di carte di faccia Un po' di carte di schiena Faccia, schiena Schiena, schiena Ok Sì Ho due carte I due assi Ok Ma non focalizzare sugli assi Cerchè di quadri o di fiori Focalizza sul colore Ok Va bene Quindi dimmi un colore Dimmi un asso Dico Nero, rosso Nero Ok, metti la mano così Ok, perfetto Quindi prendo l'asso nero Tienilo così Ok Perfetto Quindi tu hai l'asso nero Prendo quello rosso Lo metto qui Ora tu hai l'asso nero Io ti do il rosso Lascia un po' Tieni così Ok, perfetto Quindi Ora io ho il nero Tu hai il rosso Ora voglio ancora fare una cosa Prendo l'asso nero Lo metto sotto Prendo l'asso rosso E lo metto sotto Quindi ora adesso Cosa hai sopra? Che carte hai? Secondo te è nero o rosso? Nero Nero Guardale Tutti e due Pesca una carta Bene Ricordalo Fai vedere lui Mettila qui Ok, perfetto Ora vado a tagliare il mazzo E a mischiarlo Per risperdola Ok Adesso io farò riscorrere le carte In questo modo Bene Tu dimmi sto qui In un punto di qualsiasi Stop Ok Quindi Questa è l'autocarta? No No? Ok, guarda Bene Siamo arrivati alla fine del video Ringrazio lui Che ha filmato E niente Volevo solo ricordarvi Che se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate E iscrivetevi Ciao E al prossimo video Ciao